Negli spazi espositivi di Villaggiuri a Pallanza in Verbania con il patrocinio del Comune di Verbania e nell'ambito della sesta edizione delle Stanze delle Meraviglie, Wunderkammer, ovvero due serie di mostre d'arte contemporanea a cura di Marisa Cortese e dell'Associazione Siviera, che vede coinvolti oltre 60 artisti provenienti da diverse località, sabato 15 luglio 2023 all'ora 18 è prevista la presentazione del volume edito dai quaderni del bar di edizioni a cura della professoressa Urmida Ciacraborti dal titolo Il viaggio finestre italiane sull'India, racconti di vita e di avventure scritti a più in mani come ponte tra Italia e India per i 75 anni dell'indipendenza indiana e delle relazioni tra questi due paesi. Sono previsti gli interventi di Urmida Ciacraborti, Cristina Rotondi, Paola Scialpi, Stefano Donno, Vittorio Tononno.